Bufera sul sindaco di Ponte Cagnano-Faiano Giuseppe Lanzara dopo la nomina a capo gabinetto di Mario Borrelli, candidato in suo appoggio nella lista energie alle ultime elezioni amministrative. La pubblicazione del decreto, giunta al termine di una procedura pubblica di selezione avvenuta nei mesi scorsi, ha scatenato la polemica fra le fila dell'opposizione, a cominciare dal capogruppo dei moderati Francesco Pastore. Siamo sbalorditi dalla totale incongruenza tra le dose dette per tanti anni dal sindaco e dal partito democratico, professando cambiamento, moralità, è quello che sta accadendo oggi invece a Ponte Cagnano-Faiano. La nomina del capo di gabinetto, un costo di oltre 40 mila all'anno che manifesta la totale inadeguatezza di questa classe di dirigenza e di questo sindaco, si è tolto la maschera, ha deciso di dimostrarsi per chi è e fare nomine assurde che oltre a progiudicare il suo progetto, che era quello del stravolgimento, pregiudica anche la dotazione organica del comune, cioè oggi il comune tra lo staff e il capo di gabinetto sarà fermo, non potrà più fare altri tipi di assunzioni e quindi la pianta organica sarà ferma. Si potevano assumere i vigili urbani, si potevano assumere le persone che andavano a fare servizi sociali, si possono assumere persone nei settori strategici, l'ufficio urbanistica è completamente sguarnito, i lavori pubblici sono allo sbando e in tutto questo si assume un capo di gabinetto che oltre ad essere immorale portare all'interno della macchina comunale con un contratto pubblico un candidato tra l'altro senza esperienza amministrativa, quindi non può vantare neanche un curriculum di alto profilo istituzionale nonostante nulla contro le persone mai e il blocco della macchina amministrativa perché è tutto concentrato intorno al re, tutto lo staff e il capo di gabinetto serve per aumentare l'ego di un sindaco che è accecato totalmente al potere che lo circonda senza nessuna visione e programmazione per la città e in tutto questo la litorania è abbandonata, il sottopasso è chiuso e noi pensiamo al capo di gabinetto, che cosa dire? Dinanzi al potere sono tutti quanti uguali, anche il mito del cambiamento finalmente è terminato e noi come opposizione tuteleremo gli interessi di tutti i partecipanti al concorso, delle persone per bene che si sono sentite tradite da questo comportamento ricorrendo a tutti gli organi istituzionali che sono a garanzia della legalità, per cui questa volta saremo noi a chiedere legalità verso un comportamento che a nostro avviso è fuori dai canoni istituzionali, è illegale.